questa è la survival edition di resistance 3 potete ammirare innanzitutto la scatola che non è grandissimo guardate più o meno se poi tutto quello che era contenuto all'interno scusa come non è grandissima è gigantesca non è grandissima rispetto a tante altre collector 16 non mettiamo quella di killzone 3 rialo ricci o di heavy rain per dire vedete qua il poster da notare il poster tenuto su con i fermagli un poster di carta piuttosto misero dalle immagini che facevano vedere su internet ecco anche qui potete vederlo sembrava un poster pazzesco invece in realtà è proprio piccolissimo e poi vedete c'è la borsa di tela qui in basso con il marchio di resistance 3 e ancora qui il logo andiamo a sinistra vediamo una borraccia molto simile per non dire identica a parte il logo davanti e dietro a quella di role of duty world at war che tu ti ricordi danno era bellissima e utilissima attenzione soprattutto originale utilissima queste carte da gioco non ho ancora messo le mani su resistance 3 ma dubito che sparando a questi cazzo di chimera il protagonista ha tempo di giocare a scopa per dire anche se le carte saranno sicuramente da da poker blackjack ogni tanto con i chimera si fa una partita poi vediamo qua dei soldatini per ovviamente bambini con 28 decimi di vista ma intorno sono minuscoli perché insomma non si capisce neanche sono soldatini o una mossa di plastica verde indefinita si sono vestiti alcuni sono dei chimera ah ecco non vedevo bene come si vede che la nostra regista non dice un cazzo del gioco non ha mai giocato un episodio di resistance mi manca mi manca mi manca costa 49 centesimi non è bene 49 centesimi e il valore dei soldatini di dollari attenzione che c'è del insomma la regista è scarsa ah prima di farvi vedere il gioco che è il pezzo forte sostanzialmente l'unico vediamo anche un artbook si 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 è importante dove sta dietro si davanti e dietro sembra una sorta di moleskin però diciamo in realtà è un artbook si che può essere usato un pochettino anche come blocco note ma voglio dire non è che io vado a usare tutti scrivono nelle cose che voglio dire esatto vedete però ha delle pagine vuote per le classiche note per gli appunti oggi ho ucciso totto oggi ho ammazzato 28 chimera ecco beh comunque al tatto è bello niente a che vedere con quello di Halo Ricci no no niente a che vedere ma non vogliamo fare paragoni stupidi qui oh come paragoni stupidi non vogliamo fare paragoni stupidi allora vediamo come dice il gioco vero e proprio che è sigillato bene il gioco è in special edition vendono anche questa a parte cioè la special edition dentro la survivor edition si 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 beh ormai fanno tutti così perché si sono resi conto che trovare una edizione liscia dentro una survivor edition che costa 130 euro è una martellata sul testicolo sinistro e quindi sostanzialmente hanno pensato bene di includere l'edizione special dentro l'edizione survivor una sorta di matricosca che in effetti fa il gioco di noi collezionisti e questo è il gioco dentro ci sono anche dei bonus come dei contenuti scaricabili vabbè il blu ray disc con effetto venire questa da sola quanto costa? ma questa da sola sarà sui 69,90 penso solo la special edition? si penso si ma anche 79,90 si sui 79 penso e dentro ci sono dei contenuti speciali come un blu ray disc con effetto vinile rinforzo multigiocatore network pass skin delle forze special SRPA skin di Nathan Hale infetto titolo multigiocatore sentinella granata aria combustibile ecco tutti quei contenuti online più che altro si è un network pass per poter giocare online vedete io sono la resistenza ma vuol dire network pass per giocare online? c'è anche tipo il fifa quello lato di fifa si è un vedi qua c'è scritto riscatto il codice voucher psn o voucher come si dice in inglese psn fornito per accedere alle funzionalità online quindi penso che sia un passo online obbligatorio per poter proprio giocare online altrimenti sto cazzo ecco e HD 720p questo per colpa dei piratozzi esatto per colpa dei piratozzi che salutiamo ok vabbè è finita e che di questa roba sicuramente se ne sbatteranno le palle bellamente e avranno il loro classico cd noi abbiamo un'extra sì noi abbiamo un'extra dov'è? un attimino ve lo prendo sentite già il rumore che è il poster laminato la madonna no si vede allo specchio guardate il poster laminato eh sì insomma perché ce l'hanno dato perché? perché l'abbiamo preso perché l'abbiamo preso quella catena quella catena di negozi quella la come si chiama? come diceva la G e diceva la S quella che non tornano mai i due centesimi di resto per professione ecco con i due centesimi di resto ci si fanno due milioni l'anno in più eh sì insomma quelli lì non so gay stop gay stop game fuck non mi ricordo comunque sì ci hanno dato questo poster laminato eh che si aggiunge ai poster laminati che già abbiamo come bravi nerd stronzi quali siamo di Uncharted di Infamous 2 e ci daranno anche quello di Uncharted 3 avendolo prenotato dopodiché ci daranno una cornice che potrà racchiudere tutti e tre i poster non so in che modo onestamente ancora e speriamo sia sia un bel pezzo da collezione ne dubito visto che questo comunque si bellocio sicuramente vale più di questo posterazzo di carta però non è niente puoi fermarli cromati sì puoi fermarli cromati bene è tutto al prossimo come avete visto non è proprio un unboxing ma abbiamo già spiattellato tutto sul tavolo per risparmiare tempo sì per risparmiare tempo perché insomma le bestemme sono moltissime mentre io vado a capire la confezione non mi riesce di aprire bene oppure fatto un piccolo strappo prima poi ci censurano diciamo alla prossima adesso tocca giocare alla prossima